La Presidente dell'Autorità Portuale Trieste, Marina Monassi, ha dichiarato aperto l'Infopoint di Porto Vecchio. Lo ha riferito in una nota, e tra le altre cose queste sono le immagini dell'inaugurazione, e viene specificato che l'apertura avviene appena due settimane dopo la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande di concessione per il Porto Franco Vecchio. Si tratta di una struttura, ha detto Monassi, che sarà di supporto imprenditori e professionisti interessati a presentare i progetti ed investimenti per il recupero delle opere demaniali del comprensorio. Nei prossimi mesi è stato ancora annunciato, sarà rivolta dall'Autorità Portuale, di concerto con il proprio Istituto di Cultura Marittimo Portuale, un'azione informativa rivolta a investitori italiani ed esteri potenzialmente interessati a presentare proposte di recupero, utilizzo e gestione di uno o più lotti modificati nell'avviso pubblicato sulle site web delle autorità. Grazie.